Scusa Mervino, mia moglie sta andando allo studio a fare quelle e-mail, ma dimmi una cosa, siccome l'hanno chiamati ora, anziché di andargli, la data non gliela possiamo mettere un po' da noi e ti faccio sempre le e-mail, aspetta un attimo che ti guardo, ma portateci le fotocopi, portateci, eh allora mette la data, va bene, aspetta un attimo, due secondi e te la dà, va bene, aspetta in linea, no se guarda il corrento è il terreno, ma non lo posso aprire, con quel tipo di pdf che mi avete andato, te le mando su un messaggio nome e cognome di tutti i clienti, va bene, i numeri, mi interessa sapere i numeri che abbiamo messo negli attestati, i numeri progressivi, mettiamo 001, 002, 003, ci dobbiamo andare pure domani mattina alle 11 e mezza, va bene, diciamo di sì, non possiamo avere camorree, però questi servivano per, va, per un po' di tipo, dai, per completare, esatto, hai capito? ciao, 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 e sempre grazie, eh, sempre grazie, ah, sempre grazie, ciao, ciao, a mezza che dici? eh, ti ricordi, ne vediamo giovedì, va bene, un'umana magheredà, però stai facendo cose, capito? ah, vero, eh, quindi però mi stai dedicando a questa situazione, per fare determinate cose, tutto a posto, giusto?